I fatti accaduti ieri in occasione del presidio tenuto in piazza indipendenza a Roma dalle maestranze della Asta di Terni in relazione all'avvertenza aperta con la proprietà ThyssenKrupp hanno determinato in me la scelta immediata di venire qui e di non avere alcuna esitazione nel dichiarare anche nell'incontro che ho avuto in serata con i rappresentanti delle sigle sindacali presenti in piazza a Roma proprio ieri che quello di ieri è stato un brutto giorno per tutti